Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci di nuovo nello spazio riservato alle canzoni facili da suonare al pianoforte. Oggi vedremo Despacito. Proprio per questo ho chiesto aiuto a Roberta, perché insomma lei parla 18 lingue. Sì, 45 in realtà. Penso 18 e quindi ci aiuterà nella pronuncia, perché così mentre io suonerò gli accordi lei ci potrà cantare sopra per farci capire il punto della canzone dove ci troviamo. Siamo pronti? Prontissimi. Vai. Canta, 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 è libertà. Dunque, questa canzone è formata da quattro accordi, ancora una volta, e sono Si minore, questo è Do, la nota prima è subito Si, quindi Si minore si formerà con Si, Re, Fa diesis, io vi consiglio con la mano destra di suonare 1, 2, 4, sappiamo che le dita si chiamano 1, 2, 3, 4 e 5, quindi 1, 2, 4, e comincio la canzone. Ok, il secondo accordo è Sol maggiore, quindi Sol, Si, Re. Ancora quattro battute per ogni accordo. Poi si va avanti con il Re maggiore, Re, Fa diesis, La, e infine l'ultimo accordo è La maggiore, quindi La, Do diesis, Mi. Quindi, ricapitolando, facciamo da capo la canzone così sentiamo anche com'è il motivetto. Ok, abbiamo visto. Poi, nella seconda parte, è ancora uguale, quindi vediamo la seconda parte. Mentre nel ritornello, le accordi sono gli stessi. Subito dopo c'è un'altra parte, molto bella, dove le accordi sono ancora una volta. gli stessi. 3, 4. Poi, infine, c'è una parte più ritmata, dove le accordi sono ancora gli stessi e fa più o meno così. Si te pido un beso vendando, io sé che stai pensando, llevo un tempo intentando, ma mi stai stai guidando. Sabes che tu corazon conmigo te hace bam bam, sabes che esta beva esta buscando de mi bam bam. Prueba de mi boca para ver como te sabe. Chiero, 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 per quanto amore a ti te cabe. Io non tengo prisa, io mi chiedo a dare il piano. E per te volendo, adesso puoi salvare. Eccetera, eccetera. Bene, anche questa, come avete potuto vedere, è una canzone molto semplice da suonare al pianoporte. Grazie Roberta. Grazie a te, Mario. Per averci dato una mano. Grazie. E spero che vi divertiate a suonare questa canzone. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.